Il 29 novembre venerdì inizierà questo laboratorio di cittadinanza promosso dall'azione cattolica della diocesi di Vallo della Lucania in collaborazione con la pastorale giovanile guidata da Don Marco Polito e con la pastorale sociale guidata da Don Angelo Tabasco. Questa iniziativa voluta dal presidente diocesano Antonio Voria è rivolta ai ragazzi delle scuole. Il tema è quello dell'uomo, dell'ambiente e della politica e attraverso degli appuntamenti mensili, quindi un appuntamento al mese che si svolgerà in un venerdì presso l'aula magna della sezione classica del liceo Alfonso Gatto. I ragazzi potranno incontrare un testimone che con loro affronterà uno dei temi anche legati un poco alla laudato sì di Papa Francesco, al movimento di Greta Thunberg, quindi si concentrerà l'attenzione su quelli che sono gli scenari che impongono una riflessione anche politica. È importante che lo facciano i ragazzi, è importante che acquisiscano degli strumenti e l'idea di farlo attraverso delle testimonianze di dette che di volta in volta toccheranno dei temi specifici offrendo delle chiavi di lettura particolari è un modo per responsabilizzare i ragazzi, per farli crescere, per dotare loro degli strumenti di analisi che poi possono essere utili proprio nella lettura della realtà e nella consapevolezza di essere cittadini. Quindi è un'iniziativa che l'Azione Cattolica ha messo in piedi anche in collaborazione con Lega Ambiente, tanto che il primo appuntamento, il 29 appunto, dalle 16 alle 18 sarà con Michele Bonomo della Segreteria Nazionale di Lega Ambiente che affronterà proprio la situazione attuale. Poi nel corso degli altri appuntamenti si avrà modo con Don Bruno Lancuba, con Alfonso Andrea, con un contributo anche da parte mia e a conclusione poi con Annunziante Mastrolia di toccare le diverse tematiche che riguardano appunto l'esigenza di una lettura di un'ecologia integrale. È importante che i ragazzi si calino in questa realtà ed è importante che lo facciano non in maniera teorica ma in maniera pratica cercando di rapportare quelle che sono le sensibilità, le quali sono chiamate, a delle scelte. Le scelte che riguardano sia appunto il proprio vivere da cittadini ma anche la responsabilità che ciascuno ha nei confronti della propria città e del proprio paese quindi proprio per far crescere una coscienza civica e politica per fare in modo appunto che la politica non sia una brutta parola ma sia la consapevolezza del ruolo che ciascun cittadino ha ed è importante farlo partendo dalle scuole quindi si svolgerà al liceo gatto quindi alla sezione classica del liceo gatto ma è aperto a tutti quanti gli studenti delle scuole superiori quindi in questi giorni all'interno delle scuole si sta girando per far conoscere ai ragazzi questa iniziativa per invitarle ad iscriversi ma naturalmente quindi per ciascuna classe sarà possibile pre iscriversi l'appuntamento però è alle ore 16 di venerdì 29 presso l'aula magna del liceo gatto la sezione classica quindi in via più decimo e lì con il primo appuntamento sarà possibile appunto formalizzare anche l'iscrizione avviare il percorso e naturalmente questa attività è stata riconosciuta dagli istituti come un'attività formativa potrà essere proposta appunto per avere anche i crediti da parte dei ragazzi e quindi è un modo appunto di crescere in collaborazione con le scuole ed è bello anche che l'azione cattolica diocesana sia impegnata in prima linea su questo perché è lo spirito che l'anima da sempre e che naturalmente si traduce in iniziative di questo tipo